Salve, sono Giovanni Puddu, presidente della cooperativa Electra Service. Noi ci occupiamo principalmente di sistemi elettronici di sicurezza, antifurto, automatismi per cancelli, impianti telefonici, fotovoltaico, eolico, insomma tutto ciò che riguarda l'elettronica in genere. Niente, siamo iscritti in Sardex da circa un anno, abbiamo avuto degli ultimi risultati da condizioni iscritte, sinceramente abbiamo avuto anche un certo aumento di clientela e un discreto giro, un apporto diciamo sul nostro giro d'affari. Sardex è un circuito di credito commerciale per uno scambio, un libero scambio di beni e servizi, che tra l'altro non ha nessun interesse anche per chi dovesse avere dei crediti o acquistarli, nessuna difficoltà per spenderli, è un'ottima iniziativa, penso che agevoli tantissimo le imprese e i professionisti sardi, specialmente per il futuro. Chiaramente devo sottolineare che da parte del circuito Sardex, insomma dei broker, di tutti impiegati vari, sono assolutamente disponibili, per qualsiasi cosa abbiamo avuto basta chiamare e ti risolvono il problema, imposti anche un'offerta commerciale, addirittura ti aiutano anche a come svilupparla al meglio, senza nessun problema. Per quanto riguarda l'utilizzo o la possibilità di spendere i crediti che acquisiamo, chiaramente offrendo i nostri servizi o beni, non c'è nessuna difficoltà perché nell'ambito del circuito troviamo sempre qualcuno o qualcosa che possa essere utile alle nostre esigenze. Faccio un esempio pratico, a livello aziendale abbiamo cambiato il consuletto a lavoro e addirittura il nostro commercialista perché essendo nel circuito Sardex ci danno la possibilità di spenderli, quindi ci vengono incontro. Abbiamo avuto modo di utilizzare dei meccanici, dei gommisti per i nostri mezzi aziendali, tranquillamente non abbiamo proprio nessuna difficoltà, addirittura a livello personale pensate che siamo riusciti a dare parte dello stipendio ai nostri dipendenti che anche loro l'hanno utilizzato, i Sardex, acquistandone in supermercati, nelle macellerie convenzionate, addirittura nei dentisti. E tra l'altro parliamo tutti di professionisti. Qualcuno era un po' reticente a dire ma il dentista chissà come, assolutamente, abbiamo trovato veramente persone professionali e disponibili. Trovare nuovi clienti nel circuito Sardex è assolutamente conveniente perché non solo li trovi ma ti amplia anche il giro d'affari. Quando chiedi anche un preventivo, adesso faccio un esempio, nel nostro caso a un fabbro perché dobbiamo elettrificare un cancello, dobbiamo rinnovare anche il cancello. Il fabbro non solo diventa nostro cliente ma a sua volta noi diventiamo clienti suoi, quindi è tutto un giro, un giro che è un tornaconto per tutti. Questa è una cosa assolutamente positiva. Abbiamo avuto un incremento anche nel fatturato in questo modo qua, assolutamente una cosa veramente ottimale per un'azienda che tra l'altro ti mette a contatto anche con altre realtà isolane. Si lavora quasi fraternamente, più che in amicizia a questo livello qua. Per quanto riguarda i clienti devo dire che oltre ad essere ampliato nel circondario che so Cagliari provincia, ma abbiamo avuto tantissime richieste nella zona di Nuoro, di Sassari, Olbia. Sembra quasi che le distanze non esistano più nella Sardegna. Ormai è diventato quasi un circuito interno, proprio veramente quasi di fiducia perché quando ti chiamano il cliente se sa che sei iscritto a un circuito a Sardegna è già fiducioso nei tuoi confronti perché sa che in quel contesto ci sono solo persone, aziende, professionisti e affidabili. Per quanto riguarda il futuro io penso che ci sia un coinvolgimento sicuramente che vada ad aumentare tutta l'iscrizione in questo circuito di tantissime imprese Sardegna, anzi lo spero vivamente, imprese Sardegna nonché di professionisti perché creiamo veramente una sorta di circuito dove tutti possiamo andare anche nel momento di bisogno perché trattandosi di questi Sardegna che in effetti non vai a avere nessun interesse passivo è una cosa utilissima. Io lo consiglio vivamente a tutte le aziende che non sono iscritte, ai professionisti e a tutti quelli che vogliono affacciarsi a un mondo che possa ampliare il loro giro d'affari, assolutamente. Nella mia modesta esperienza addirittura di poco più di un anno lo consiglio vivamente. perché il circuito siamo noi. Samoa 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 Grazie a tutti.